Buongiorno, oggi è 8 gennaio 2018, io sono Francesco Cappello e stiamo andando da Melendugno a Borriagna, nella nostra chiacchierata di tre minuti, tre minuti e mezzo, anche meno possibilmente. Non vi ricordo più niente, mi scuso se venerdì non sono andato in onda, ma ho rotto il cellulare, ho rotto lo Huawei P10 Mate Pro e quindi no, non è vero, sto scherzato, solo per prendere tempo. Allora, questa mattina parleremo, solo per perdere 38 secondi, questa mattina parleremo dei video promozionali, mi scappa la risata, dei video promozionali, una volpe, bellissima, una volpe correva, mi ha attraversato la strada sulla provinciale Melendugno Borriagna o viceversa. Dicevo, questa mattina parleremo, in tre minuti anche meno, dei video promozionali delle autocandidature degli aspiranti parlamentari del Movimento 5 Stelle. Da premettere, questo non è un video promozionale, anche perché lo dovrei fare anche io in quanto candidato alle parlamentari, in quanto anch'io mi sono buttato in questa avventura, mi sto spendendo in questa avventura. Quindi questo non è il mio video promozionale, però vorrei parlare dei video dei miei colleghi, dove ci sono alcuni video raccapriccianti, altri, magari anche il mio sarà raccapricciante, e altri video veramente ben fatti, ben seguiti, ben sviluppati, ben caricati. Alcuni video sono veramente a mettersi le mani nei capelli, ci sono persone che si vede proprio che stanno là perché gliel'ha imposto il divino amore per stare lì e buttarsi in questa avventura, e spendersi in questa avventura, e altri video invece in cui gente ci crede, che comunque ci crede nell'iniziativa, nel Movimento e crede in quello che sta facendo. Ripeto, questo non è il mio video promozionale, questo è una chiacchierata di 3 minuti, siamo già a 2 minuti e 20, che avviene tra me e 5 persone, 5 persone che mi seguono, e lo faccio esclusivamente per queste 5 persone, poi magari se arrivano anche gli altri, ben venga. Quindi niente, io vi auguro buona giornata, oggi siamo tornati alle attività normali, tutti al lavoro, tutti a scuola, tutti a studiare, e finite le vacanze natalizie. Per correggere un errore su un vecchio video, su un video precedente, vi auguro di nuovo, dopo 8 giorni, buon anno, buon 2018, perché a quanto pare abbia detto, a quanto pare ho detto 2017, invece siamo nel 2018. Quindi ciao, buona giornata.